E prima del commento alla partita col Belcio, facciamo questa pubblicità, grandi magliette www.91calcio.com, magliette bellissime di tutte le squadre, amici miei, di tutte le squadre, di altissima qualità, signori miei, di altissima qualità, questo è solo un esempio, vedete, vedete che bello, che bello, che bello, squadre di tutte le squadre italiane, serie A, serie B, squadre internazionali, mi raccomando, compratele tutto, a poco prezzo, a pochissimo prezzo, il link in descrizione, c'è il link in descrizione a questo video, il link in descrizione a questo video, compratele e andiamo a vedere adesso, andiamo a vedere adesso cosa c'è, 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 C'è Fabio, Ciao Fabio, come vedi? Sono stanto, ho trovato per 90 minuti, non ce la faccio più, sono stantissimo, ho bisogno di sostituzione. Gianluca, si soffre, si soffre, si soffre, si soffre, di un certo si soffre, la bandiera, la bandiera si soffre, si soffre, Quando manca, quanto manca, quanto manca, amici, manca due minuti, due minuti, due minuti, 2 P2, sono 4, perché due P2 fa 4, 2 P2 fa 4, Stiamo spezzando il ritmo, Stiamo spezzando, Gianluce ce la facciamo? Sicuro, Sicuro, un minuto e mezzo un minuto e mezzo alla festa vai Ciccione con la lunga dai sacchino di andare Ciccio no non di andare più Ciccio una tensione palpabile no ma allunga almeno un altro minuto lo so allunga allunga butta la terra Ciccio sentite vai vai Ciccio Ciccio protegge la palla e viene chiamato un calcio di punizione l'ultima azione l'ultima azione signori l'ultima azione Giofabbio Giofabbio dimmi qualcosa ho paura signori signori attenzione ci siamo quasi quanto manca Giofabbio quanto manca quanto manca quanto manca quanto manca quanto manca ultima azione ma benissimo non so quanti minuti più palla ancora buttata dentro chi è lì poi il pallone di pretta no la notte è ancora alta Giorginio poi Emerson bravo Giorgio ma quanto è ancora quanti minuti ancora siamo trepidanti non ce la facciamo più non ce la facciamo più amici non ce la facciamo più vai che l'abito sta con il fischetto in bocca dai vai ma perché tanto tanto bene no l'ultima azione no 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 attenzione chi sta no no attenzione l'ultima azione no 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 vai Giellini vai vai Giellini vai Giellini vai Giellini è l'ultimo calcio d'angolo ce la facciamo ce la faremo va a saltare quanto a tutta l'Italia ha detto anche il portiere ma che cazzo non è niente vai è andata è andata è andata è andata è andata è finita è finita è finita è finita siamo alle semifinali siamo alle semifinali siamo alle semifinali ma quanto è fischia è fischia fischia sul rilascio vai è finita è fischia è fischia andiamo in 10 mili finale orgogliosamente italiani orgogliosamente italiani orgogliosamente italiani siamo voi vai 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 è fischia sul rilascio che ricordatevi sempre siamo l'Italia vuol cadere siamo a primo si rialza orgogliosi di questi ragazzi del mister dello staff orgogliosi di noi perché noi italiani siamo differenti adesso andiamo alle semifinali siamo in semifinali grandissimi siamo fortissimi siamo fortissimi fortissimi Gianluca Gianluca un saluto finale un saluto finale andiamo in semifinale grande vittoria contro una scuola fortissima ma siamo stati più forti ci abbiamo avuto il cuore ci abbiamo avuto l'anima l'anima il cuore l'anima e poi vinceremo e vinceremo questo europeo grande Italia e vinceremo questo europeo e vinceremo questo europeo che bello che bello siamo tutti casati tutti mamma mia mamma mia dai quindi un saluto finale per gli ascoltatori del mio canale signor Fabio un saluto finale sono commosso commosso chi ti è piaciuto di più? Insigne Insigne più di tutti Insigne ma tutta la squadra ha notato il cuore tutti 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 e a te un saluto finale una menzione speciale a quel povero Spinazzola che è stato il migliore dei nostri in tutto l'europeo in bocca al lupo a lui il suo europeo finisce purtroppo ma il nostro come popolo italiano continua siamo duri e lotteremo fino alla morte basta va bene quindi vi saluto anche io e siamo in semifinale ciao a tutti buonanotte ciao a tutti buonanotte dall'Italia dall'Italia grazie a tutti